Il documentario ha sentito che non è vero che tutte le formiche lavorano sempre. Ci sta una parte che non fa niente tutta la giornata. E voi, spettomi, se foste formica, a quale categoria vi piacerebbe appartenere? Quelle che non fanno niente o quelle che lavorano? Tra qualche giorno voi sarete tutti trasferiti. Tutte le attività sono sospese. Non ci sono più colloqui. Vitto fa schifo. È sciopero della fame. Qui senza lui ci siamo nella merda. Noi dobbiamo evitare una rivolta. Io sto cercando una soluzione per quello che posso fare io. È pericoloso. Ci vado io con lui. Ti fai invitare la peggiore dei detenuti. Ma sei impazzito? Basta adesso. La gioca, un passo indietro. Un passo indietro, ho detto! E tu stai in galleria, eh? Tu stai in galleria, no? Sì? Non me ne ho racconto. Io e te. In comune non abbiamo niente. Una domanda. La gioca, un passo indietro, è semplicitata, è morto. È l'altra domanda. Non abbiamo niente. La gioca, un passo indietro. La gioca, un passo indietro. È un passo indietro. La gioca. Un passo indietro. La gioca. Grazie a tutti.